Accadde oggi. Noi giuriamo di partecipare ai giochi olimpici come concorrenti leali, rispettosi dei regolamenti che li reggono e desiderosi di gareggiare con spirito cavalleresco per l'onore del nostro paese e la gloria dello sport. La voce ferma e lo sguardo teso in avanti per una situazione inedita. Giuliana Minuzzo è la prima donna di sempre a pronunciare giuramento olimpico. Nasce il 26 novembre 1931 a Vallonara, località oggi parte del comune di Marostica in provincia di Vicenza. Durante l'infanzia in Val d'Aosta si appassiona allo sci e con il tempo ottiene risultati sempre più convincenti, tanto da conquistarsi un posto nelle gare di sci alpino delle Olimpiadi di Oslo 1952 dove conquista un bronzo nella discesa libera. Mai una donna italiana fino a quel momento ha vinto una medaglia olimpica. Se sotto il punto di vista sportivo il primo squillo risuona in Norvegia, sotto il punto di vista simbolico l'appuntamento con la storia arriva nel 1956 ai giochi olimpici di Cortina. Durante la cerimonia inaugurale le bandiere dei paesi partecipanti sfilano l'una dietro l'altra e poi arriva il grande momento. Giuliana Minuzzo prende il posto sul podio. Ha 25 anni, da un anno e mezzo è madre di una bambina. Dato il livello raggiunto, la sportiva spera di portare una medaglia alla figlia e, sottolinea la stampa in quei giorni, questo tipo di motivazione è una delle ragioni che portano all'individuazione della sua figura come elettrice del giuramento. Giuliana Minuzzo centra il bronzo nella combinata, valido però per il solo campionato mondiale. Poco importa, l'ininterrotta sequenza di uomini sul podio del giuramento si interrompe e questo basta per passare alla storia. Asquo Valley nel 1960, il bronzo olimpico nello slalom gigante e poi nel 1963 la vittoria del nono titolo italiano nello slalom gigante e il ritiro dalla scena agonistica. Dopo la vita sugli sci inizia quella commerciale in un negozio di articoli sportivi a Cervinia. Nel 2006 il cuore torna a battere forte per l'Olimpiade di casa. Alla cerimonia inaugurale di Torino, 50 anni dopo l'emozione cortinese, Giuliana Minuzzo viene chiamata per la consegna della bandiera olimpica ai rappresentanti degli atleti e dei giudici di gara e mentre Giorgio Rocca legge il giuramento olimpico regge un lembo del drappo. Muore l'11 novembre 2020 ad Aosta.